ben tornati a un appuntamento con ss tv buonasera a tutti buonasera tutto bene sempre siamo tornati siamo tornati qui alla ex cadono dove siamo stati più volte perché sai che in questi diciamo ci siamo quasi di casa quasi quasi di casa di questo dai va bene perché sai che in questi ex che cos'era questa la guardia ad esempio se questa la guardia questa era anche penso la scella cps cpr erano qui sono le scelle anche insomma l'anno scorso addirittura con il nostro prode tecnico fabio bianchini entrammo all'interno trovammo insomma di tutto tutto quello che diciamo era una sorta di prevede lo spaccio siringhe tutto il materiale diciamo per in qualche modo confezionare anche le dosi poi diciamo ogni volta è stata richiusa e poi qualcuno è riuscito di nuovo a entrare all'interno fino anche addirittura ci sono stati gli episodi anche di piccoli incendi eccetera ora finalmente non è questa la soluzione però insomma pare che la parte davanti è stata chiusa col lucchetto di nuovo come era stata chiusa la parte qui diciamo più nascosta dall'altra parte questa parte più nascosta invece è stata murata sostanzialmente è una cosa che si adotta che si adotta sempre quando ci sono ha visto fabbricati e che sono abbandonati anche privati adottano questo sistema in effetti questo è modo per cui non si può assolutamente entrare più qua mi sembra che c'è ancora però di qualche bivacco questo sarebbe niente c'è qua sotto qualcuno che ci dorme però in questo modo non si entra più però ci sono altri dei porti in cui c'è due rocchettini in effetti possono entrare tranquillamente vero questa era più a rischio perché in un ambiente molto appartato bisogna venirci apposta in questo modo qui si è risolto il problema magari sarebbe meglio risolvere anche in un altro modo utilizzando questo ma cosa può impedire al di là che ora adesso hanno fatto bene a murarla perché se no però non si risolva magari murassero anche quella davanti se no tra un po' torniamo qui che ci sono rientrati dentro via dicendo cosa impedisce al comune di fare un bando non lo so tu che sei stato in comune vice sindaco cosa impedisce di fare un bando al di là che uno diceva beh nessuno interessato proviamoci ma ci sono delle situazioni per cui potrebbe essere utilizzata si parla di centri sociali visto che centri per anziani che vengono chiusi vedichiani so che c'è anche qualche problema adesso a san clemente ci sono problemi di palestre ad arezzo che non ci sono potrebbe essere utilizzata anche in questo senso quindi non è detto che si deve mettere uffici perché qua le stanze per uffici ne sono in abbondanza adesso specialmente che poi l'università ha lasciato questa struttura è completamente vuota quindi siccome questa è anche abbastanza grande facci una piccola palestra facci un piccolo centro di ritrovo e sarebbe importante sarebbe importante perché le associazioni che cosa impedisce al comune di farlo la domanda è sempre quella questo non lo so forse non c'è neanche nessuno in mente o l'idea di poterla utilizzare questo è un male niente io penso che potremmo lanciare anche un'idea alle associazioni di volontariato che sono in città che magari sono alla continua ricerca di sedi dove poter svolgere le loro attività perché non trovano spazi questo potrebbe essere uno spazio che potrebbe essere utilizzato io non so in futuro qui l'amministrazione cosa prevede e cosa ha previsto in quest'area per poter utilizzare questi immobili comunque sia se effettivamente dovesse restare così potrebbe essere una soluzione per sistemare qualche associazione ecco questi sono i lucchettini di cui dicevamo prima quelli che erano dalla parte di là che si sono spostati di là i lucchettini magari qui è più difficile perché è più diciamo al di là era nascosto qui diciamo è più difficile anche qui la notte che ti va anche perché qui ricordiamo mi pare di ricordare che la famosa tele dove era la telecamera quella lassù chissà se funziona insomma quella la dove c'è la università cosa c'è l'ificai all'inizio della terza età lì sopra c'è una telecamera vedi chissà se è l'unica poi non so se ce n'è altre qua cioè dovrebbe essere forse boh non si sa ecco è curioso che quest'area insomma potrebbe essere anche video sorvegliata meglio sicuramente visto il via vai di persone che c'è visto l'afflusso continuo e chi la frequenta poi in queste forme di di degrado insomma tra l'altro è bello grande questo stabile insomma a porta te lo dicevo anche una palestra forse non so se sarà giocato una palestra però insomma qualcosa ci si potrebbe veramente fare ci vogliono i soldi quindi siamo sempre lì chi pagha? ma sai ma no il comune potrebbe fare così potrebbe fare un bando di ristrutturazione e le spese di affitto che comunque se il comune deve riscuotere non le riscuote e vanno a scomputo delle spese che l'associazione fa per poter sistemare questa cosa potrebbe essere fatto perché poi sai le associazioni hanno mille possibilità perché chiaramente sono frequentate da ragazzi o da adulti e questi sono disposti fanno una serie di manifestazioni e di eventi per cui ci riescono a finanziarsi e col volontariato riuscire a fare questo cosa che il comune non può fare perché spenderebbe tre o quattro volte più capito? lanciamo un'idea potrebbe essere utilizzata per farci effettivamente un'associazione qui bene speriamo che sentiremo anche insomma magari il sindaco il vice sindaco ecco come mai o se intendono appunto a meno che non ci siano a breve dei progetti per cui venga utilizzato altrimenti se no si continua con le soluzioni di tampone che non risolvono e si viene utilizzato poi per scopi diversi che non vanno bene lo diciamo sempre la famosa teoria delle finestre cotti l'ha ricordato anche il sindaco che sai quel teorema per cui c'è un degrado qui poi si crea anche accanto poi accanto ancora invece più un luogo lo frequenti in modo sano e più si allontanano altri fenomeni di marginalità ci vediamo domani ciao